Mi chiamo Anna Ferri, ho 32 anni, vivo a Modena e sono una giornalista. Ho iniziato all'Università Bologna dove ho studiato relazioni internazionali, ho frequentato un anno all'Università di Manchester dove ho studiato politica e poi mi sono spostata a Parma dove ho studiato giornalismo e cultura editoriale. Ho iniziato a fare la giornalista a 24 anni, ho lavorato in radio, televisioni e quotidiani e anche per riviste e adesso mi occupo soprattutto di giornalismo web. A Converso ci sono arrivata incontrando un gruppo di colleghi tra giornalisti, fotografi e videomaker. Ci siamo trovati una sera a Modena nel novembre del 2013 a bere una birra e abbiamo capito che volevamo realizzare un progetto che fosse diverso, un giornalismo che prendesse diversi linguaggi e che li coniugasse tutti dentro quella grandissima scatola che è il web. A quel punto è nato Converso che è prima di tutto un progetto giornalistico ma è anche un progetto che cerca di dare impulsi culturali dentro e fuori il web perché crediamo che la vita online e la vita offline ormai viaggino sullo stesso binario. Per cui oltre a Converso Mag che è il nostro magazine ed è il nostro progetto principale adesso abbiamo anche uno spazio espositivo dove organizzare eventi culturali e artistici dove il giornalismo e l'arte riescono a dialogare. L'idea è quella di vedere se il giornalismo può vivere e sopravvivere senza editori e senza pubblicità per cui noi abbiamo fatto questa scelta importante di non avere pressioni e quindi di poter scrivere e fare quello che ci interessa veramente. Per finanziarci raccogliamo fondi sul web lanciando delle campagne e ci siamo costituiti in associazione di promozione sociale quindi anche attraverso il tesseramento, attraverso gli eventi dell'associazione riusciamo a finanziare quelli che sono i nostri progetti principali il giornale e lo spazio espositivo. Il direttivo di Converso è composto da nove persone però ci stiamo allargando perché stanno arrivando tantissimi collaboratori tra giornalisti, fotografi e videomaker che hanno deciso di collaborare a questo progetto che secondo noi sta diventando sempre più importante. Come tutti i grandi sogni all'inizio bisogna investirci il proprio tempo libero per cui fortunatamente tutti abbiamo altri lavori chi lavora in redazione, chi lavora come freelance chi lavora in istituzioni, in uffici stampa eccetera e quindi ritagliamo il nostro tempo libero facendo dei sacrifici, scrivendo per Converso, organizzando mosso, organizzando eventi culturali e sperando che prima o poi questo possa diventare il nostro lavoro principale. Modena è una buona città per fare impresa perché comunque ti offre delle opportunità ci sono un sacco di concorsi, ci sono un sacco di possibilità anche di ottenere finanziamenti se ovviamente l'idea è vincente. Grazie al Bando del Comune Carteria 26 più 104 abbiamo vinto questo spazio che abbiamo in gestione per due anni a titolo gratuito dove stiamo organizzando una serie di eventi culturali, di incontri, di battiti e di mostre dove diciamo il fil rouge è quello di far dialogare il giornalismo con altre espressioni artistiche. Modena vanta un'importante tradizione giornalistica intanto partiamo dagli anni 30-40 quando c'era la settimana modenese a Modena dove scriveva anche Antonio Delfini per passare poi ad Arrigo Levi che è un importantissimo giornalista e inviato che adesso è consigliere del Presidente della Repubblica ed è modenese doc e per passare infine alla famiglia Zucconi dove prima c'è stato Guglielmo e poi c'è Vittorio che è modenese anche se vive a Washington ed è inviato per la Repubblica e direttore di Radio Capital ed infine Edmondo Berselli che non era proprio un giornalista puro ma un grandissimo editorialista e scrittore che però attraverso le sue parole ha raccontato molti pezzi di Italia e di società e di politica. La mia giornata si divide tra il lavoro e la mia vita da mamma con mia figlia quindi di solito porto a scuola mia figlia, scappo a lavorare torno a casa, torno a prendere mia figlia gioco con lei in tutti i momenti liberi e poi magari quando lei dorme oppure dai nonni oppure con suo padre cerco di ritagliarmi dei momenti per lavorare appunto su converso perché comunque è molto impegnativo e come tutte le persone che hanno comunque un lavoro o una famiglia bisogna ritagliarsi dei momenti e spesso questo significa sacrificare magari un libro che vuoi leggere un film che vuoi vedere oppure anche qualche ora di sonno. La cosa più importante chiaramente sarebbe quella di investire di più nella cultura però mi rendo conto che questo è un discorso difficile soprattutto in questo periodo di bilanci molto tristi e di tagli agli investimenti per cui credo che la cosa importante sarebbe riuscire a fare ancora di più perché in realtà già c'è una rete tra l'università e le istituzioni però riuscire a migliorarla ancora di più e a coinvolgere magari importanti aziende del territorio perché ce ne sono tante anche molto innovative per riuscire a dare una possibilità ai giovani di partire con delle start-up o delle imprese creative. Sicuramente può venire a bussare al numero 104 di Via Carteria noi ci siamo spesso, li lavoriamo, teniamo aperte le mostre e tutti i mercoledì sera facciamo la riunione di redazione per cui se qualcuno vuole collaborare con noi basta passare a bussare altrimenti attraverso il nostro sito web che è conversomag.com si possono mandare delle email ma anche collaborare non significa soltanto venire e decidere di scrivere un pezzo ma anche soltanto pensare di raccontare la propria storia oppure di suggerirne una. per la visione della propria di imprescindere il giusto per il sentito Grazie a tutti.